Buonasera, siamo arrivati all'ultimo incontro di questa serie di iniziative volute dal Comune del Bologna e da una serie di associazioni che hanno lavorato un intero anno assieme in un progetto di rete e questo è l'ultimo incontro che si realizza in questa sede dell'Informa Giovani. Io mi chiamo Lella Di Marco, faccio parte dell'associazione Anassime che ha collaborato a questo progetto di rete e questa sera ci parleranno della loro attività, del loro progetto specifico, il granello di senape. Queste due splendide fanciulle che sono un'insegnante, Flavia, e una psicologa, Luisa, Silvia. Grazie mille Lella per la presentazione. Buonasera a tutti, io sono Flavia Giacoboni, lei è Silvia Franco e noi lavoriamo al Granello di Senape che è un progetto nato nel 2006 nell'ambito di una campagna promossa dalla San Vincenzo De Paoli che è un'associazione che opera a livello internazionale sempre nell'ambito del disagio. La campagna dal titolo Fatemi studiare, conviene a tutti, è stata promossa proprio per combattere o almeno contrastare la dispersione scolastica e l'analfabetismo. e noi abbiamo iniziato con sette bambini e tre volontari, quindi in un ambiente diciamo molto ristretto destando però sempre più attenzione e interesse da parte di scuole, assistenti sociali, educatori sociali per cui il progetto nel corso degli anni è notevolmente cresciuto, i bambini sono sempre più numerosi e nel frattempo ci siamo trasferiti presso il villaggio del Fanciullo dove abbiamo tuttora la nostra sede. I bambini iscritti sono tutti bambini che vivono in situazioni di disagio, il nostro doposcuola è completamente gratuito e il disagio può essere di carattere psicologico, di carattere sociale, di carattere economico o familiare. In più i bambini che frequentano il Granello molto spesso presentano disturbi dell'apprendimento, bisogni educativi speciali o ritardi mentali. Quindi sono tutti bambini che hanno difficoltà, hanno bisogno di essere appunto accolti, di trovare un ambiente sereno e noi cerchiamo ogni giorno di lavorare proprio per raggiungere questo. Tutti questi elementi naturalmente possono portare all'insuccesso scolastico, quindi possono portare il bambino ad avere difficoltà non trovando in casa o comunque a scuola un contesto sereno, tranquillo, il bambino può essere naturalmente demotivato, quindi meno portato a seguire le lezioni, a recuperare, a fare compiti, a studiare, a trovare un metodo di studio. E proprio per questo diciamo che il nostro obiettivo, nel momento in cui dalla scuola o dai servizi ci viene proposto l'inserimento di un bambino, è quello di osservare e conoscere la famiglia. Quindi è fondamentale per noi capire da quale contesto provenga il bambino per cercare di capire quali sono le cause e le motivazioni proprio dell'insuccesso. Possiamo fare ad esempio, possiamo citare il caso di una bambina che seguiamo ormai da qualche anno, è arrivata da noi in seconda elementare che non conosceva neanche le lettere dell'alfabeto, quindi aveva difficoltà enormi a scrivere, a leggere. Abbiamo poi scoperto che sua mamma, nonostante avesse 28 anni all'epoca, era completamente analfabeta, quindi anche nella lingua d'origine. Quindi la bambina non era assolutamente motivata ad apprendere e ad imparare perché aveva in casa proprio una mamma che non riusciva a trasmetterle l'importanza dell'istruzione. Noi abbiamo lavorato moltissimo con la mamma e anche con la bambina al contempo. Siamo riusciti a sbloccare questa situazione per cui adesso la bambina legge in maniera molto fluente, sa scrivere e ha recuperato quasi del tutto. Ci siamo però trovati nella situazione opposta in quanto questa bambina ha cominciato a schernire la mamma, prenderla in giro perché era meno capace di lei e quindi abbiamo dovuto fare poi un doppio lavoro con la famiglia per riequilibrare la situazione. Questo è solo uno dei tanti casi. Quindi nel momento in cui ci viene chiesto l'inserimento di un bambino, noi cerchiamo di contestualizzare, di capire da quale contesto venga e di capire quali sono le problematiche effettive che portano all'insuccesso scolastico. Quindi conoscere la famiglia, conoscere gli insegnanti per conoscere il bambino. Quindi il bambino non è per noi in unità astratta, ma è il frutto di una serie di relazioni, di collegamenti, di esperienze di crescita. E quindi noi ci teniamo molto anche a prenderci cura di tutto il contesto familiare, di tutto il nucleo familiare. Molto spesso accompagniamo i genitori a fare delle visite mediche oppure ci occupiamo dell'inizio comunque dell'iter che quando vediamo un bambino che ha particolari difficoltà che porta poi alla certificazione. Aiutiamo le mamme con i voucher per fare pulizie oppure le aiutiamo con i vestiti. Quindi diciamo che ci prendiamo cura di tutta la famiglia, non solo del bambino in sé. Una cosa importante da cui noi partiamo sempre è il fatto che ogni bambino è unico, ogni situazione è diversa dall'altra, ognuno ha le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza. E noi in questa prima osservazione che facciamo cerchiamo proprio di cogliere soprattutto i punti di forza che ci consentono poi di partire per creare per ognuno dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi, dei percorsi personalizzati. perché quello che va bene per uno magari non va bene per l'altro. Ed è giusto che ognuno trovi la sua strada, trovi il suo metodo, il suo percorso, perché siamo consapevoli che ognuno di loro ha delle potenzialità, ha delle risorse. L'importante è aiutarli a tirarle fuori, perché molto spesso sono bambini molto chiusi che tutta questa ricchezza la tengono dentro e non sono in grado di tirarla fuori e di utilizzarla poi, sia nel contesto scolastico che nel contesto sociale che in qualsiasi contesto della loro vita. Quindi grande cura mettiamo all'inizio proprio nella creazione di questi percorsi personalizzati che concordiamo sia con la famiglia che con gli insegnanti. Perché ovviamente noi come doposcuola non possiamo inventarci un percorso che sia completamente scollegato. Anzi, il rapporto con gli insegnanti è fondamentale per poter costruire anche un percorso che sia utile e per fornire al bambino delle strategie che possa utilizzare sia in classe che fuori. Una riflessione che a noi piace molto. Giustizia in ambiente educativo non è dare a tutti la stessa cosa, ma dare a ognuno ciò di cui ha bisogno. Come dicevo prima, non tutti sono uguali. Quindi quello che io insegno a uno, quello che io do a uno, molto probabilmente per l'altro non va bene. E quindi bisogna trovare per tutti una strada, un metodo. Un aspetto che molto spesso dalla scuola italiana non viene considerato è il concetto di intelligenze multiple. Cioè la scuola privilegia l'intelligenza linguistica e quella logico-matematica. In realtà tutti noi siamo dotati di moltissime altre forme di intelligenza. Gardner ne cita nove, ci sono altri autori che ne citano di più. Noi abbiamo preso questa immagine perché è molto chiara. Ognuno di noi ha svariati tipi di intelligenza, che vanno da quella musicale a quella naturalistica, a quella motoria. E molto spesso non vengono considerate. Quindi un bambino che non è bravo in italiano e in matematica viene considerato un bambino che non vale niente, un bambino che non è in grado di fare nulla. Invece non è vero. Ad esempio noi abbiamo avuto una ragazzina che adesso ha finito il suo ciclo scolastico, che era bravissima a cantare. A scuola aveva dei risultati molto bassi purtroppo, però abbiamo trovato questo canale della musica. E per dire alcuni insegnanti, soprattutto quella di inglese e quella di lettere, la interrogavano cantando. Quindi le insegnanti di inglese, anziché farle i compiti come gli altri, le faceva studiare queste canzoni che lei doveva tradurre, doveva studiare le regole grammaticali, doveva imparare a cantare. E riusciva a valutarla utilizzando appunto questo talento di questa ragazza, che altrimenti, anzi, nelle ore d'inglese secondo me, lei stava addirittura fuori, se non ricordo male. Non entrava neanche in classe. E invece, avendo scoperto questo talento, questo aggancio, siamo riusciti a farla partecipare alle lezioni e ad avere anche delle valutazioni positive. Come può essere anche l'arte. È un canale che, attraverso cui molti ragazzi potrebbero esprimersi e che secondo noi andrebbe valorizzato. Purtroppo non sempre la scuola ha il tempo e le risorse per farlo. Però crediamo fermamente che tutti questi tipi di intelligenza vadano tenuti in considerazione e vadano assolutamente valorizzati. Un altro aspetto importante è quello di non focalizzarsi su ciò che il bambino o il ragazzo non sa fare, ma al contrario partire da quello che lui sa fare. E questo è assolutamente un trampolino. Perché partire da ciò che il bambino sa fare lo aiuta a partire con entusiasmo, lo aiuta a essere più motivato e sicuramente l'autostima ne trae giovamento e lo aiuta. Perché molto spesso ci siamo accorti che sono ragazzini che partono totalmente sfiduciati. tanto io non sono capace, tanto io non so fare, mi hanno sempre detto che non sono intelligente, mi hanno sempre detto che nella vita non farò nulla. Partire da queste premesse non è facile, non è facile per nessuno. A nessuno di noi piace fare una cosa in cui ci sentiamo incapaci. Quindi giustamente questi ragazzi scappano. Scappano dalla scuola arrivando poi all'insuccesso e alla dispersione. perché sono talmente convinti di non saper fare che non partono neanche. E invece un passettino alla volta, partendo da un interesse, partendo magari dalla materia che sanno fare meglio, partendo anche da una cosa che gli piace, si tratta poi di salire un gradino alla volta per arrivare poi a dei miglioramenti effettivi e tangibili anche a livello di voti. perché poi questa è la valutazione che noi facciamo costantemente in itinere. Come facciamo noi a dire che la nostra metodologia funziona? Ci confrontiamo con gli insegnanti, ci confrontiamo con le famiglie, chiediamo ai bimbi di portare la pagella e confrontiamo i voti. Questo poi è il nostro metro. Oltre a vederli più soddisfatti, più contenti, vediamo anche se effettivamente ci sono dei miglioramenti a livello scolastico. e sicuramente va instaurato con loro, ma anche con le famiglie, un clima di fiducia e rispetto reciproco, considerando sempre che è possibile imparare ad imparare. Perché molto passa anche da noi. Cioè, se io mi avvicino a un ragazzo convinta che lui non sa fare niente, probabilmente il miglioramento non ci sarà. Se io invece mi avvicino a lui, convinta che è possibile imparare ad imparare, convinta che questo ragazzo ha delle risorse, gli trasmetto fiducia. E sicuramente il percorso è totalmente diverso. Quindi è possibile imparare ad imparare, è possibile avere dei miglioramenti e questa fiducia la sentono. I bambini, ma anche le famiglie. Cioè, vedere che noi diamo fiducia al figlio porta poi anche il genitore ad avere un po' più consapevolezza di quello che il bambino può fare. E quindi aiuta molto. Esatto. Poi ci piaceva questa frase di Rodari. Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Quindi rendere l'apprendimento più divertente, più interattivo, più coinvolgente, facilita il lavoro dei bambini sicuramente. Per questo noi abbiamo investito moltissimo nelle nuove tecnologie, abbiamo acquistato moltissimi software, mappe concettuali, per rendere l'apprendimento più divertente. Nel momento in cui il bambino trova enormi difficoltà ad apprendere attraverso il metodo classico, noi cerchiamo nuovi metodi, nuovi strumenti, che sono poi anche gli strumenti compensativi, che rendono l'apprendimento più facile, più divertente. Perché costringere un bambino piccolo a imparare a leggere con un testo troppo difficile per lui, quando può benissimo imparare attraverso il fumetto. L'importante è che lega, a prescindere dal genere letterario, soprattutto quando è piccolo, l'importante è che venga stimolato, venga portato ad apprezzare, ad amare la cultura, la lettura, la matematica, anche attraverso metodi alternativi. Anche perché spesso ci troviamo a colmare delle lacune veramente profonde. Purtroppo non tutti i bambini arrivano da noi presto. Siamo molto felici quest'anno perché abbiamo moltissimi bambini di prima elementare, che sono i vari fratelli e sorelle di chi ha frequentato precedentemente, ed è importante per noi poterli seguire dall'inizio in modo da portare avanti l'apprendimento senza lacune. Perché ragazzine che arrivano da noi, magari in quinta elementare o in prima media, che non sanno leggere, che non sanno che cos'è una tabellina, che non sanno fare i calcoli, hanno delle lacune che poi diventa veramente molto difficile colmare. Quindi noi utilizziamo tutti questi strumenti, cartacei, tecnologici, tutto quello che siamo riusciti a recuperare, anche per riuscire a colmare queste lacune, perché sono dei ragazzi che hanno già il carico di compiti normale. Quindi andare a colmare le lacune, proponendogli degli altri esercizi o delle altre fotocopie, molto spesso risulta pesantissimo per loro. Però non possiamo neanche andare avanti senza colmare le lacune, perché non possiamo portare avanti un percorso con un ragazzo che non sa leggere, o che ha dei buchi evidenti, perché l'apprendimento successivo non ha le basi su cui ancorarsi. Quindi sono poi i ragazzi che vanno avanti, magari trascinandosi da una classe all'altra, però con scarsi risultati. Infatti molto spesso noi concordiamo con gli insegnanti di bloccarci nel programma attuale della classe per poter tornare un po' indietro. È uno sforzo, è uno sforzo per noi, è uno sforzo soprattutto per i ragazzi, però ci siamo rese conto che senza fare quel passo indietro continuerebbero a trascinarsi senza però raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo principale del Granello di Senape è raggiungere l'autonomia. Noi vogliamo che i nostri bambini siano in grado, inizialmente attraverso il nostro aiuto e poi da soli, di organizzare le ore di studio, di organizzare il loro lavoro extrascolastico ma anche scolastico. Quindi autonomia è un po' la parola chiave che ci descrive, che ci identifica, perché appunto il nostro obiettivo è quello di rendere il ragazzo autonomo, capace di strutturare il proprio lavoro, di dare le priorità, di rendersi conto in maniera appunto autonoma di ciò che è davvero importante e ciò che è meno importante. Quindi di strutturare attraverso mappe, attraverso una sorta di organizzazione personale, quello che è il suo lavoro. Quindi di essere sempre meno dipendente e sempre più autonomo. Quindi se nei primi anni noi lo seguiamo in maniera più pedissequa, più diciamo stretta e vicina, negli anni successivi il nostro obiettivo è appunto quello di renderlo autonomo, di lasciarlo un po' fare da solo, senza il nostro aiuto, senza essere sempre lì a controllarlo. E questa è un po' la nostra vittoria, cioè lasciarlo andare verso le scuole superiori senza che lui abbia bisogno di una figura sempre accanto, sempre vicina a controllarlo. C'è anche successo negli anni che alcuni bimbi non abbiano continuato l'anno successivo e ci siano venuti proprio a dire guarda io quest'anno non vengo perché ho imparato come si fa, riesco ad avere dei voti buoni a scuola, quindi riesco a studiare a casa da solo. E per noi è una grande soddisfazione perché significa che hanno acquisito un metodo, significa che hanno acquisito appunto questa autonomia, consapevolezza e che sono in grado di camminare con le loro gambe perché appunto il granello di senape non ci sarà sempre ed è giusto che loro proseguano da soli. Ecco, una cosa che noi riteniamo fondamentale sono le strategie di apprendimento, quindi il metodo di studio che molti non hanno ancora acquisito e che rende l'apprendimento ancora più difficile perché magari studiano in modo disordinato, si trovano a fare le cose all'ultimo, quindi si trovano con moltissime cose accumulate che poi non riescono a imparare il giorno prima della verifica. Quindi acquisire delle corrette strategie di apprendimento facilita il loro lavoro e li aiuta a proseguire nel loro percorso, dandogli anche soddisfazione perché ci siamo accorti che purtroppo questi bambini non provano soddisfazione, cioè loro studiano perché bisogna, studiano perché si deve, perché la scuola bisogna andarci e quindi imparo a memoria quelle due pagine che ci sono da imparare e finisce tutto. Invece il fatto di diventare consapevoli anche del proprio percorso, del proprio metodo, li aiuta a proseguire provando soddisfazione, interesse, cioè è bellissimo vedere poi questi ragazzi che studiano magari con delle nostre volontarie che sono anche delle ex insegnanti e che quindi riescono a raccontargli magari le scienze o la storia con tutti gli aneddoti ed è bellissimo vedere questi ragazzi che all'inizio erano totalmente disinteressati e invece sono lì che gli chiedono ah ma cos'è successo, allora la vicenda, ah invece oggi questa volta l'insegnante di scienze mi ha detto questa cosa, è vero, non è vero? Ed è bellissimo, cioè almeno a noi dà molta soddisfazione ed è bello vedere che la provano loro soprattutto, che sono stimolati, che sono curiosi e che riescono anche a organizzarsi questo studio in modo sistematico, ah qui al doposcuola faccio prima questa materia perché so che per me è più difficile, allora la faccio qui, magari a casa faccio quell'altra che mi piace di più e la faccio più velocemente, mentre all'inizio molto spesso succede che i bambini portino al doposcuola solo le cose che sanno fare perché giustamente vogliono fornire un'immagine di sé positiva, allora magari portano al doposcuola solo quella materia e parlando con gli insegnanti ci accorgiamo che in tutte le altre magari hanno quattro, però non ce l'avevano detto perché è comprensibilissimo che ognuno voglia offrire un'immagine di sé positiva e quindi il lavoro sul metodo di studio è un lavoro che noi facciamo parallelamente a tutte le discipline e che gli consente di migliorare poi in tutte, non solo in alcune. E il successo scolastico ovviamente si basa su molti elementi, sicuramente le abilità personali che sono diverse per ognuno, gli aspetti strategici che erano quelli di cui parlavamo prima che cerchiamo di insegnare e parallelamente per ogni materia, aspetti metacognitivi, quindi ragionare anche su quello che sto facendo, quindi devo essere consapevole di quello che sto facendo e sicuramente gli aspetti motivazionali, se gli alunni non sono motivati non possono proseguire nel loro percorso. Proseguo io? Due tipi di apprendimento che ci piace distinguere sono quello significativo e quello mnemonico. Quello mnemonico porta semplicemente è di imparare a memoria i contenuti da portare, ma non rimangono. Cioè, chi impara a memoria, ok, magari se tutto va bene lo ricorda per il giorno dopo che ha il compito, però finisce lì. Invece, l'apprendimento significativo è quello che porta anche a una stratificazione cognitiva, che porta il ragazzo a interiorizzare i contenuti, ad agganciarli a quello che ha imparato prima e fa da base per quello che imparerà dopo. Per questo noi abbiamo verificato che sono molto, molto utili le mappe concettuali, perché aiutano a creare questa stratificazione, questa importanza e questa anche gradualità. La facilitazione anche attraverso le parole chiave. Molto importante è il concetto di rete per noi, perché noi lavoriamo in sinergia con alcune realtà territoriali, le scuole in primis, noi nel momento in cui inseriamo un nuovo bambino, la prima cosa che facciamo è quella di andare a parlare con gli insegnanti per verificare qual è la situazione scolastica e per progettare appunto insieme il percorso personalizzato con degli obiettivi minimi da raggiungere periodicamente e degli incontri periodici con gli insegnanti fino poi ad arrivare al monitoraggio diciamo finale. Anche con i servizi educativi territoriali, soprattutto per quanto riguarda i quartieri San Donato e San Vitale, noi abbiamo degli ottimi rapporti, ci sentiamo spessissimo con gli educatori che ci propongono gli inserimenti e facciamo anche con loro periodicamente delle valutazioni per vedere se c'è stato un miglioramento, cosa dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo modificare e anche lì facciamo una valutazione finale per renderci conto del lavoro che effettivamente abbiamo svolto e un altro elemento imprescindibile della rete è la famiglia noi proprio come abbiamo detto prima ci teniamo tantissimo ad avere un buon rapporto con le famiglie quindi parliamo molto con le mamme chiediamo loro di fermarsi dopo che i bambini sono stati da noi proprio per renderle partecipi dei miglioramenti dei bambini di quello che hanno fatto di quello che non hanno voluto fare perché siamo convinti del fatto che solo lavorando in sinergia con l'energia di tutti si possono raggiungere degli obiettivi altrimenti si fanno tante cose però tutte staccate tra loro e senza obiettivi comuni in questa rete ci siamo rese conto che a volte può infastidire i ragazzi più grandi cioè il fatto che noi parliamo poi con gli insegnanti e le famiglie inizialmente soprattutto ai grandi può dare un po' fastidio però in realtà col passare del tempo si sentono anche sostenuti perché molto spesso vivono tutte queste realtà come frammentate vengono da famiglie frammentate magari la maggior parte sono stranieri quindi il fatto di avere questa rete gli aiuta anche a dare un senso a tutto quello che fanno e a sentirsi più sereni il fatto che ci siano delle linee guida che sono comuni nei vari contesti che frequentano alla fine è una cosa che rassicura e va un po' a ridurre tutta questa frammentarietà che loro hanno perché loro hanno la famiglia d'origine la scuola il dopo scuola magari il gruppo di amici che sono italiani e loro sono stranieri invece sapere che c'è comunicazione fra tutti questi diversi ambienti abbiamo visto che è utile anche perché tutte queste cose che noi stiamo raccontando oggi che noi mettiamo in pratica ogni giorno nel nostro lavoro sono il frutto sia di quella che è la nostra formazione a livello universitario professionale ma anche l'esperienza concreta perché poi molte cose nascono da quello cioè nascono dal fatto che noi siamo lì tutti i giorni con questi bambini e con questi ragazzi quindi un po' alla volta anno dopo anno ma anche proprio giorno dopo giorno ci rendiamo conto di quelli che sono i bisogni di quelli che sono le esigenze e proviamo a migliorare a migliorare quella che è la nostra offerta per andare incontro a quelle che sono le richieste ad esempio una cosa che abbiamo aggiunto quest'anno anzi alla seconda metà dell'anno scorso sono dei laboratori espressivi perché ci siamo resi conto che sono ragazzi che non parlano che non esprimono opinioni che non raccontano il loro vissuto che quando gli chiedi di parlare di se stessi questa è la reazione cioè rimangono proprio bloccati quindi venivano solo per fare i compiti c'è un momento di socializzazione che è il momento della merendo il momento post compiti però ci eravamo rese conto che sì interagivano fra di loro ma sempre rimanendo a un livello molto superficiale quindi già dall'anno scorso abbiamo iniziato a proporre questi laboratori espressivi in cui proponiamo delle attività che diano la possibilità proprio di tirar fuori tutto il mondo che hanno dentro tutta la ricchezza e siamo partiti l'anno scorso con 5-6 bambini siamo arrivati a fine anno a 10 quest'anno sono 16 e sono appena iniziati questi laboratori e si vede proprio il miglioramento si vede che hanno voglia di raccontarsi si vede che hanno voglia di esprimersi di parlare di sé e questo è un altro obiettivo molto importante secondo noi che vi sta aiutando anche a socializzare con gli altri vediamo che adesso il momento finale del pomeriggio è molto più ricco perché si parlano perché si raccontano perché magari anche i bambini che prima scappavano adesso si fermano un pochino a fare due chiacchiere si chiedono come stai lo chiedono a noi perché noi sembra banale però li accogliamo stiamo chiedendogli come stai come è andata come ti senti e anche questo all'inizio li stupiva adesso rispondono volentieri e lo chiedono a noi proprio in questa in questa idea di scambio di dialogo reciproco di accettazione reciproca e di valorizzazione anche della persona perché è vero che noi ci occupiamo di sostegno scolastico ma non c'è solo quello cioè c'è un mondo dentro di ogni persona allora c'è una prima parte che è dedicata proprio alla condivisione al come stai cosa hai voglia di raccontare agli altri molto libera dopo c'è in genere un'attività che può essere un gioco può essere comunque qualcosa che si fa in gruppo che che vada sì che però gli consenta di parlare di gioco di parlare di sé e poi un'attività manuale sempre legata allo stesso tema che gli permetta di esprimersi anche individualmente so se vuoi magari raccontare gli ultimi che avete fatto sì abbiamo notato che questi bimbi sono poco abituati a parlare di sé a fare anche autocritica loro hanno un'idea di sé che diciamo non maturano da soli ma che è condizionata dagli altri e quindi abbiamo pensato di dato che lavoriamo anche con bambini molto piccoli di prima seconda terza elementare di associare loro stessi a degli animali quindi abbiamo preso un libro che è estremamente interessante molto ben illustrato che è forte come un orso e partendo proprio dalla lettura di quel libro fatta proprio in socializzazione in cerchio abbiamo cercato di far individuare a ogni bambino le proprie caratteristiche quindi semplicemente abbiamo attaccato sul polso dei bimbi dei pezzettini di scotch colorato in base alle caratteristiche in cui loro si riconoscevano chi è che si sente timido chi è che si sente forte chi è un chiacchierone chi è silenzioso e quindi i bambini in questo modo si sono un po' autoanalizzati cioè hanno cercato di in un certo senso riflettere su quelle che sono le proprie caratteristiche e alla fine di questo gioco tra virgolette le abbiamo fatto rappresentare quindi attraverso un disegno la caratteristica in cui loro si riconoscevano quindi loro hanno disegnato l'animale che era diciamo più vicino al loro carattere al loro essere questo è un esempio oppure l'anno scorso ad esempio sono rimasta molto colpita da un laboratorio ideato da Silvia sui sogni quindi nella parte iniziale del laboratorio abbiamo fatto parlare moltissimo i bambini e i ragazzi di quelle che sono le loro aspirazioni i loro sogni le loro ambizioni e nella seconda parte del pomeriggio ne abbiamo fatto proprio costruire una chiappa sogni da mettere in camera come simbolo proprio di un qualcosa che rimane quindi il laboratorio non è un qualcosa di fine a se stesso ma cerchiamo sempre di far costruire dei giochi dei giochi degli strumenti o degli oggetti o per se stessi o da regalare oppure da lasciare lì e quindi per arricchire l'ambiente quindi niente va perso niente va buttato questo di giochi avevamo costruito l'anno scorso avevamo fatto l'attività iniziale sull'amicizia sulle cose che abbiamo in comune quindi cosa ho in comune con gli amici quali sono gli aspetti diversi invece perché siamo tutti diversi quindi ci saranno cose in comune cose diverse e poi per stare insieme avevamo costruito tutta una serie di giochi da poter utilizzare abbiamo costruito il gioco dell'occa il memory il domino che poi sono rimasti lì al doposcuola e hanno potuto utilizzarli per tutto il resto dell'anno era stata un'altra attività molto interessante avevamo fatto tutti i regali per i volontari anche per per ringraziare tutto questo perché noi siamo fondamentalmente un'associazione di volontariato quindi abbiamo moltissimi volontari che che tengono viva l'associazione perché grazie poi al loro aiuto che riusciamo a portare avanti tutte le varie attività e quindi abbiamo reso consapevoli i bambini di questo e sono stati poi generosissimi nel realizzare abbiamo realizzato dei segnali per i volontari addirittura con dei messaggi con personalizzati avevamo poi fatto anche un video a fine anno in cui i bambini ringraziavano tutti questi volontari e era stato bello bello per noi bello per i volontari bello per i bambini che si sono resi conto comunque del valore dell'aiuto che ricevono e della generosità anche delle persone che sono lì e questo è sicuramente una cosa che sarà utile a loro anche per il futuro cioè il fatto di la generosità lo stare insieme agli altri e donare una parte di sé agli altri sì poi volevo aggiungere che comunque è il nostro lavoro molto gratificante perché è vero che si dà tanto a questi bambini per quanto riguarda il tempo le energie però si riceve anche tantissimo cioè per quanto mi riguarda ogni volta che esco da da quel posto lì io mi sento carica mi sento piena di energia perché sono comunque consapevole di aver fatto qualcosa di buono nel mio piccolo anche se ho fatto uno 0,01% però ho regalato a quel bambino un qualcosa che lui non avrebbe ricevuto altrimenti quindi anche un mezzo piccolissimo per cercare di cambiare la sua vita per riscattarsi in qualche modo sì allora come ho detto prima sono tutti bambini che vivono in situazioni di disagio quindi abbiamo diversi bimbi di seconda generazione quindi figli di immigrati o anche di prima immigrazione quindi magari nati in Pakistan in Bangladesh in Marocco e poi trasferiti qui da piccolissimi oppure abbiamo italiani generalmente segnalati dai servizi sociali quindi anche lì con pochi mezzi con poche possibilità comunque moltissimi stranieri sì sì infatti diciamo che in quella zona lì noi siamo al villaggio del fanciullo che è nella zona cirenaica quindi tra San Vitale e San Donato c'è proprio un'emergenza barra esigenza territoriale sono tantissime famiglie straniere quindi la domanda è crescente proprio per questo motivo perché sono tanti bimbi piccoli e tanti genitori o analfabeti o costretti magari a lavorare tantissime ore al giorno e quindi incapaci o impossibilitati proprio a seguirli e molto spesso questi bimbi sono un po' abbandonati a se stessi certo allora volevo aggiungere due cose uno rispetto alla mia esperienza di relazione con i genitori che in questi dieci anni ma quindici quasi intervento nostro è cambiato moltissimo cioè all'inizio questi genitori erano veramente entusiasti della scuola italiana parlo di genitori stranieri in prevalenza marocchini entusiasti della scuola italiana degli insegnanti del livello della scuola proprio perché probabilmente in Marocco la situazione è profondamente diversa e i figli rendevano probabilmente erano arrivati qua piccolissimi per cui il trauma dell'immigrazione non l'avevano vissuto in maniera negativa e poi queste famiglie forse ecco l'analisi che faccio io erano ancora pieni di progettualità di speranza eccetera nel corso del tempo abbiamo visto trasformare moltissimo sia i genitori che i ragazzini i figli di quelle signore che abbiamo conosciuto 15 anni fa adesso hanno 10 12 14 15 anni 16 e sono tutti a rischio secondo me a parte alcune situazioni situazioni più che altro del Bangladesh e dell'India pochissime del Marocco perché i migliori sono andati o sono tornati al paese con la crisi che è aumentata da noi oppure sono andati in Belgio alcuni in Canada ok allora cosa raccontano loro vivono adesso e in questi ultimi anni la scuola in maniera negativa perché hanno verificato che dentro la scuola molti insegnanti come dire marginano i loro figli e denunciano anche i casi di razzismo io non lo so se è proprio razzismo se stanchezza degli insegnanti se è incapacità didattica comunque il problema c'è per esempio quel Muhammad a cui facevamo riferimento che è un ragazzino delizioso e però l'insegnante gli dice vai fuori tu che non capisci niente così lui riferisce e poi visto che il bambino non reagisce andando fuori di fronte alla classe dopo un po' dice andate a vedere quel morto andate a vedere cosa fa testuali parole che sono tutte parole negative che fanno interiorizzare un concetto negativo di sé al bambino questa è un po' la realtà non è un caso isolato per cui insomma casini a casa genitori separati la mia esperienza ripeto è soprattutto sul Marocco quando voi dite i bambini non parlano loro hanno molto pudore e insegnano i genitori a non dire nulla fuori di quello che succede a casa per cui i bambini sono blindati io li ho trovati un pochettino più aperti fino alla scuola materna e poi dopo no allora adesso si sta presentando un altro problema che a parte l'educazione scolastica l'insegnamento scolastico della scuola italiana loro sentono la cultura del loro paese e la cultura religiosa sempre più lontana e sempre più bistrattata allora vivono questa dicotomia sono in Italia devono rispondere anche alle richieste che vengono fatte su questo territorio nello stesso tempo il loro cuore batte per il Marocco per dire per cui reclamano un'educazione coranica no in maniera democratica soprattutto quando da quando sono successi tutti i casi dell'Isis quasi tutti questi bambini frequentano o in moschea o a San Donato la scuola di lingua madre che ragazzi è tremenda perché non è che imparano l'arabo imparano l'integralismo arabo dentro questa storia dell'integralismo arabo qualcuno secondo me insomma direi criminale ma comunque irresponsabile insegna a non fare mai amicizia con i cristiani questa cosa è vera non me la invento non fare amicizia con i cristiani e non lasciarsi avvindolare dai valori dell'occidente allora questi bambini sono incasinatissimi nel senso che la frattura che hanno dentro di loro è nel contrasto fra queste due culture di fatto il lavoro che fate voi eccezionale mi diceva Ziba che qualche volta non so se lo fate normalmente oppure in maniera eccezionale lei era impegnata col lavoro il bambino era da prendere e non so se siete stati voi che lo andavate a prendere a scuola e lo portavate al dopo scuola una cosa che lei mi diceva gli educatori l'hanno fatto mi hanno risolto un problema per oggi c'è anche questo problema che alle volte i bambini vanno da soli dalla scuola al dopo scuola al dopo scuola a casa arrivano a casa e non c'è nessuno vabbè la realtà è questa sì 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 a scherzi no la questione scolastica io per l'esperienza che abbiamo andato ho trovato molti insegnanti in gamba ma molto difficoltà perché loro si trovano con delle classi numerosissime in cui hanno bambini stranieri che parlano italiano bambini stranieri che non lo parlano magari appena arrivati alunni disabili disturbi dell'apprendimento bisogni educativi speciali e magari c'è un unico insegnante che deve far fronte a 28 30 bambini quindi anche insegnanti molto preparati molto in gamba si ritrovano in questo esatto in questo mare di difficoltà a cui cercano di far fronte nel miglior modo possibile perché io lo vedo quanto impegno ci mettono e magari vengono comunque criticati perché non possono arrivare dappertutto cioè non riescono a far fronte a delle classi così eterogenee a delle problematiche così variegate e quindi poi purtroppo io capisco che ricevano critiche capisco che ogni tanto possano perdere la pazienza ed è una situazione delicata perché perché ogni bambino appunto meriterebbe la giusta attenzione però allo stesso tempo anche questi insegnanti come fanno cioè è difficile infatti noi molte volte riusciamo a lavorare con alcuni ragazzi o con alcuni bambini nel rapporto uno a uno e non sempre riusciamo neanche noi perché non sempre abbiamo i volontari che coprono tutta la tutta la necessità ci sono ragazzi che inseriti anche in un piccolo gruppo non ce la fanno e quindi tante volte ce li immaginiamo in classe diciamo bene lui con noi riesce a lavorare in un rapporto uno a uno in classe che il rapporto è uno a ventotto cosa fa? Un passo alla volta purtroppo la situazione è effettivamente molto complessa come complessa è la questione della frammentarietà di cui parlavamo anche prima della cultura italiana che si va a contrapporre alla cultura d'origine quindi quello che gli viene richiesto qui che si va a contrapporre a quello che invece gli propone la famiglia la scuola coranica e moltissimi dei nostri bimbi la frequentano e crea grossi dubbi perché loro si trovano con queste differenti visioni che devono in qualche modo riuscire a conciliare perché loro alla scuola italiana ci vanno tutti i giorni con gli insegnanti con i compagni vengono poi al doposcuola al tempo stesso hanno la famiglia e queste scuole e queste scuole di cultura di religione che gli danno degli altri messaggi quindi bisogna inserirsi in questa frattura secondo me in modo molto delicato ci vuole molto tempo anche da parte nostra per entrare veramente in contatto con queste famiglie non è automatico e cercare di come si può dire di rimanere nel mezzo ecco abbarcamenarsi quindi per concludere possiamo un attimo riprendere le parole chiave che ci contraddistinguono apprendimento significativo quindi non mnemonico per favorire appunto una stratificazione delle conoscenze la motivazione che è fondamentale infondere nel bambino la passione l'amore per lo studio è un qualcosa di importantissimo l'autonomia quindi riuscire a rendere il bambino capace di fare da solo le nuove tecnologie software computer tutti gli strumenti che servono ad apprendere in maniera più semplice più facile anche più divertente il vissuto personale per noi imprescindibile quindi il contesto le esperienze che il bambino ha maturato da dove viene il bambino dove si è formato cosa ha fatto chi sono i suoi genitori chi sono i suoi insegnanti perché reagisce così perché si comporta in questo modo la fiducia che deve essere reciproca quindi dare fiducia al bambino e al contempo ricevere fiducia da parte del bambino per poter collaborare e infine la rete quindi l'importanza della sinergia con tutte le realtà territoriali per poter raggiungere degli obiettivi comuni quindi non una realtà frammentata non un lavoro fatto in autonomia ma un lavoro fatto in base alle esigenze del territorio alle esigenze della scuola alle esigenze della famiglia concludiamo quindi con questa frase di Einstein ognuno è un genio ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà l'intera vita a credersi stupido grazie a tutti grazie grazie